Puntata del 30 settembre movimentata quella del Grande Fratello. Uno dei momenti certamente più toccanti si è verificato quando improvvisamente Elena non ha trattenuto le lacrime e le ha sfoggiate in piena diretta. Non ce l'ha fatta a sopportare ciò che era venuto fuori qualche minuto prima e ha quindi dato vita ad uno sfogo vero e proprio. Diversi concorrenti del Grande Fratello si sono infatti scagliati contro Elena e l'ex isola dei famosi è scoppiata in lacrime. Sono stati mostrati dei filmati inerenti la ragazza, che ha fatto una spiacevole scoperta. Dopo aver ascoltato quello che hanno detto nei suoi confronti, ha avuto un crollo psicologico. Grande Fratello, Elena in lacrime, cosa ha scoperto in diretta? Praticamente nella casa del Grande Fratello c'è stato più di qualcuno che si è lamentato per il comportamento di Elena. Le lacrime sono diventate realtà dopo che ha ascoltato alcuni pareri di altri inquilini. Enzo Paolo Turchi ha esclamato, non ha rispetto degli altri, vive nel suo mondo. A me ha fatto cose che non sono piaciute. La mancanza di rispetto non mi piace. Si è messa a mangiare mentre facevamo la lezione, se n'è andata senza dire niente. Il marito di Carmen Russo ha aggiunto, tu pensi che noi ce l'abbiamo con te, ma non puoi mancare di rispetto. Tu a volte vivi in un mondo tuo, ma devi capire che qui ci sono altre persone. Se parliamo tu mi fai uno sbadiglio in faccia, non pensi a queste cose e può dare fastidio. Anche le nonnella Rai ci sono andate giù dure, ci prendi per il cu, non gliene frega un ca' di nessuno. Dunque, dopo che Elena si è resa conto che alcuni compagni di avventura avevano parlato male di lei di nascosto, ha pianto in piena diretta. Dopo ci sono stati dei chiarimenti e la sua speranza è che in questa settimana ci possano essere dei rapporti più sereni.